Questo è il calcio, loro con due situazioni sono riusciti a fare due gol, noi ne abbiamo avute tante e non siamo riusciti a farlo. La squadra secondo me ha fatto la prestazione che doveva fare, c'era un regore anche per noi che non ce l'hanno dato, il loro era molto dubbio. Poi abbiamo preso questo gol in partenza, che il Pescara è molto bravo a ripartire, però anche nel secondo tempo è stata una grandissima parata di Fiorillo, un miracolo. Abbiamo detto stile Buffon su Zidane al Mondiale. Sì, penso di sì, adesso l'ho visto da lontano perché era in tribuna, però io penso che la squadra oggi ha fatto di tutto per cercare di portare a casa un risultato. Però se anche i primi dieci minuti noi eravamo in vantaggio, io ho detto siamo 2-0 ma le occasioni le avevamo avute noi, Fiorillo aveva parato sul capello, una pallone dentro fuori, non so se c'era, pulzetti. Queste sono le annate dove ti gira tutto storto, noi dobbiamo essere bravi a farle girare, lavoreremo ancora con più impegno per cercare di limare questi errori. È stato a colloquio con i tifosi del Padova fino a qualche istante fa, cosa le hanno detto, cosa le hanno chiesto i tifosi? Vogliono le vittorie, noi ce le metteremo tutte, tutti insieme cercheremo di venirle fuori. Ho detto che i giocatori stanno dando tutto, certo, siamo in difetto di vittoria, però nel giro di ritorno noi non siamo messi male, però dobbiamo lavorare ancora di più. E' arrabbiato per l'arbitraggio? Beh, il terzo rigore che mi danno è un esistente contro ed è l'ennesimo rigore che non mi danno, perché fra Cremona e oggi se giochiamo noi a palla a mano ci danno subito rigore, gli altri li toccano di mano e non fanno gol. E poi è normale che vengo buttato fuori, anche mi viene da dire che non mi si possa protestare su questo, l'hanno detto anche loro che c'è la rigore. Qui stiamo giocando sulla pelle del Padova, gli episodi negli ultimi quattro settimane sono stati veramente deleteri. Senta Bisoli, nel momento dell'espulsione, noi abbiamo parlato prima in diretta con il presidente Sebastiani, era un po' arrabbiato Sebastiani e ha detto che Bisoli pensasse a fare l'allenatore, cosa è successo? Tutte le volte che veniamo qui ci sono dei problemi, tipo questo, perché il rigore non è esistente, perché mi era già successo, io faccio l'allenatore e lui fa il presidente, come tutto sommato. Non vedo che... Non è anche visto, quindi non l'ho anche visto. Tornando alla gara, Bisoli, un buon primo tempo, un più che buon primo tempo, ma anche nella ripresa, nonostante il Pescara abbia avuto le occasioni per il 3-0, ovviamente approfittando degli spazi che voi lasciavate, avete avuto quell'occasione del possibile 2-1 con il miracolo di Fiorillo. Questa squadra ha qualche difficoltà a capitalizzare le occasioni che costruisce, è così? Questo sì, è normale, ormai è un dato di fatto. Noi crediamo, anche col Foggia noi abbiamo avuto le prime occasioni, 3 di noi non l'abbiamo fatto gol, il Foggia dal primo errore nostro ci ha fatto gol, poi si è stati bravi a rimediarlo. E anche oggi l'abbiamo avuta, io non penso che ci sia stata squadra che sia venuta a Pescara e abbia creato 4 occasioni così limpide e 10 calci d'angolo e battuti. Tolto forse una partita anche un po' strana con il Brescia che i primi 10 minuti ha avuto le occasioni limpide, il Pescara poi ha preso 5 gol, 2 rigori. Vedete come cambiano le situazioni? Ecco, noi oggi c'è capitato quello che è successo al Pescara con il Brescia. L'ultima è martedì e c'è la gara con il Brescia, testa a coda, lei affronterà suo figlio Dimitri, la partita della vita per lei ma ci sarà poco da guardare al suo figlio? Certamente dovrò guardare al mio padre, prima o poi riuscirò anche io a batterlo lui ma sempre battuto quindi speriamo di battere. Grazie, grazie Abiso.